Ciao ragazzi, sono Vimbermato87, vi do il benvenuto sul mio canale e oggi vi mostro ottimi trooper. FIRE! Sì, sì! Let's rock! Let's rock! Let's rock! Get some! Yeah, I can hear you now. Oh, come! No. Let's rock! Ok ragazzi questo video è finito Io vi invito a iscrivervi al mio canale A mettere dei like E mi raccomando continuate a seguirmi Ciao